Ciao a tutti, oggi di cosa parliamo? Fossati di colina, cos'è questa parola? Questa parola serve per andare a descrivere una sostanza che si troverà all'interno di questa siringa. Io andrò a fare delle piccole punturine in una zona delimitata tipo questa, perché? Perché qui ci può essere un po' di grasso, ovvero vedete questo gruppetto giallo di celluline? Questo è il grasso, io lo posso trovare qua in profondità. Se ho un po' di grasso localizzato in profondità e non voglio andare a fare trattamenti molto invasivi, posso con questa sostanza appunto che si chiama fosfati di colina, prendere e fare delle piccole iniezioncine nella pelle, questa è la pelle sempre, quindi nella profondità, in questo caso vengono fatte in questa maniera, e vado a localizzarle esattamente dove trovo un po' di grasso. Come funziona? La fosfati di colina una volta che entra qui all'interno della cellula grassa, fa dividere il grasso in trigliceridi e acidi grassi. Queste due sostanze sono facilmente digeribili dall'organismo, quindi poi se ne vengono via, se ne andranno via tramite, vedete, tutto il sistema dei capillari, dei linfatici, arriveranno fino al fegato dove poi verranno metabolizzate. Quindi io faccio delle punturine a livello, ad esempio, delle ginocchia se c'è un po' di grasso, oppure che ne so, delle braccia se c'è un po' di grasso, oppure un po' di fianchetto, cioè nelle zone localizzate posso fare queste punturine di questa sostanza. Chiaramente non va comprata in internet e fatta la puntura da soli, no, bisogna andare dal medico specialista, perché il medico specialista sa che dentro alla siringa ci dovrà essere una giusta quantità di prodotto, in questo caso la collina, che servirà per fare questo discorso, ma dentro ci vorrà anche un po' di anestetico, ci bisognerà utilizzare sempre un ago della lunghezza e dimensione giusta affinché non si rimanga in superficie, perché se facessi in superficie rischierei di lasciare magari un'escara, ovvero un buco. Quindi bisogna andare alla profondità giusta, bisogna utilizzare il prodotto giusto per non fare dei danni. Quindi la priorità in assoluto per la pelle e per evitare i danni è quello di andare da un medico specialista che faccia tutto ciò. Non comprate, fatevi tentare da tutto ciò che vedete in internet, perché oggi in internet vendono qualunque cosa. La pillola che fa ingrassare, quella che fa dimagrire, no, questa è una sostanza che deve essere utilizzata dal medico in persona. Medico che oltretutto deve essere specialista del settore. Quindi in questo caso abbiamo fatto, abbiamo detto la fosfati di poline, quindi abbiamo sciolto il grasso. E con questo io vi ringrazierei e direi ciao a tutti!